giochi con la principessa ciao amici guardate questi sono dei puzzle bellissimi che mi hanno regalato mamma e papà che belli ma cosa c'è qua mi fai vedere sì certo guarda questa è la balena guarda come grande e qui c'è il tirannosauro terribile e ora guardiamo gli altri e qua invece c'è una zebra con le righe bianche e nere e viene dall'africa questo un tirannosauro più piccolo ma e questo un panda guarda che bello però ti assomiglia ai tuoi stessi colori e questo è il mio preferito è un bellissimo unicorno e ora questo è il terribile pesce cane oh che paura che paura come facciamo principessa proteggimi tu dobbiamo stare molto attenti ma proviamo a costruirlo vediamo un po apriamo ecco qui allora abbiamo della colla per attaccare i pezzi e qui tutti i nostri pezzettini qua ci sono le istruzioni allora dobbiamo aprire così ecco qua allora vedete qui ci sono delle lettere e dei numeri bisogna mettere in ordine in base alla lettera i vari numeri così adesso iniziamo guardate com'è bello costruire mi piace tantissimo prendiamo il pezzo a 1 e il pezzo a 2 mettiamo la colla dietro al pezzo a 2 e incolliamo mi raccomando bisogna far corrispondere le immagini e il triangolo al centro ecco qua ecco qua il pezzo a 3 attenzione ecco e ora andiamo avanti a 4 così ecco ecco a 5 ecco fatto a 6 perfetto a 7 guardate un po a 8 il pezzo a 9 e ora il pezzo a 10 perfetto adesso tocca la pinna bisogna stare attenti eh sì così perfetto guardate che bello adesso lo lasciamo asciugare e passiamo alla parte b b1 e b2 così b3 attenzione sempre b4 b5 b6 guardate questo com'è bello è perfetto b7 b8 b9 e b10 ecco qua e ora la pinna mi raccomando perfetto e adesso la parte finale stacchiamo questo pezzettino lo incolliamo nel centro così ecco fatto e anche l'altro pezzettino dall'altro lato perfetto guardate che belli questi poi vanno incollati bisogna lasciarli asciugare intanto mettiamo gli occhi uno qui e l'altro qui abbiamo due pesci cani e ora che si sono asciugati possiamo incollarli insieme è proprio bello fare le costruzioni non è vero ecco fatto il nostro pesce cane è finito guarda come nuota guarda come nuota è davvero terrificante vero sembra proprio un vero pesce cane e anche i denti aguzzi attenzione e guarda qui c'è il nostro unicorno guarda che bello lo mettiamo qui guarda il panda e qua il dinosauro è questo la zebra e ti dico anche cosa mi ha detto la mamma la mamma mi ha detto che questi puzzle sono di materiale aspetta ecco materiale ecologico e meno male beh allora io voglio continuare a giocare col pesce cane perché mi piace voi quale preferite scrivetecelo intanto tolò tu prendi l'unicorno noi continuiamo a giocare ciao allora mi hanno regalato un monopattino bellissimo e dobbiamo usarlo io il monopattino e tu la bicicletta ehi ciao stavo dicendo a totò come possiamo usare i nostri giochi allora io ho questo bellissimo monopattino però vorrei che fosse ancora più speciale che avesse qualcosa che lo distingua da tutti gli altri allora è di moda è colorato e ci vorrebbe un unicorno io pure vorrei vorrei aggiungere alla mia bicicletta un dragone o qualcosa così di speciale ecco sì un bel dragone allora guarda possiamo vedere cosa c'è in queste scatole vedi questo è una maschera per fare il dragone e lì c'è quella dell'unicorno vedi c'è il cavallo rosa l'unicorno il cavallo il dragone e oscar io scelgo l'unicorno e per te il dragone ecco guarda questa è la scatola dell'unicorno adesso la apriamo e proviamo a costruirlo sei pronto? ecco qua guarda ora stendiamo tutto qui abbiamo le istruzioni qui ci sono tutti i pezzi che ci servono per montarlo e qui abbiamo la maschera ecco qua intanto facciamo gli occhi qui sono le ciglia ecco allora bisogna togliere tutti i pezzi che non servono vedi? guarda gli occhi che belli ecco anche qua c'è da togliere un pezzettino per avere i buchi uh guarda poi adesso infilo l'occhio uno e due sistemiamo le ciglia guarda che belli occhioni e adesso le fermiamo così uno e due ecco perfetto e ora e ora pieghiamo la nostra maschera aspetta prima devo togliere anche qui tutti i pezzettini per fare i buchi così due tre quattro cinque sei e sette anche qua guarda e di qua e qui c'è un altro pezzettino e qui mmm a posto ora dobbiamo fermare la nostra maschera ecco fatto chissà come funziona così e così ecco fatto questo lo infiliamo qua e poi qua e infine così guarda sembra proprio il muso di un cavallo o di un unicorno è perfetto e ora ci manca il pezzo finale togliamo tutti i pezzettini che non servono questo lo chiudiamo dentro c'è la criniera e ora il corno così così guardate che bello tocco tocco finale ecco ecco il nostro unicorno guardate com'è bello è bello ora il mio monopattino sarà specialissimo si è bellissimo adesso facciamo anche per te il tuo dragone guarda qui sorpresa guarda com'è bello questo per la tua bicicletta e per me il mio monopattino e ora andiamo ciao che bello il mio monopattino e voi ne avete uno vostro? e con quale animale lo decorereste? scrivetelo nei commenti e per tutte le puntate cliccate qui a presto amici ciao 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 ciao